È un programma in cui c'è uno studio, c'è una conduttrice che ha fatto tanti anni di televisione noiosa, di talk show, di pomeriggio, rivolgendosi a delle signore, le mie signore e le mie signore, continuano a dirlo tutto il tempo, e adesso invece si rivolge ai giovani, per cui è una sfida nuova per lei e dimostrerà di non essere assolutamente in grado. Un mix di gag e parodie e caricature talmente incredibili da sembrare vere. Tutto questo è la prova dell'otto, il nuovo programma scritto e interpretato da Caterina Guzzanti, all'esordio come protagonista assoluto in uno show che andrà in onda su MTV ogni martedì alle 22.50. Tra le tante parodie realizzate dalla Guzzanti ci sarà anche l'attesissimo Ginnaste che prende in giro lo stesso programma di MTV. MTV si prende in giro ma è proprio un loro desiderio, è stato uno sketch commissionato da MTV. Ci sono degli atleti che non hanno capito che si trattava della parodia di un programma e non dello sport perché non sono pazza e non mi permetterei mai di dire vite di merda a chi lavora e a chi si sforza per fare una carriera agonistica. In ogni puntata il programma ospiterà anche personaggi della musica, della televisione e del cinema come Irene Grandi, Dario Argento, Piff e Fiorella Mannoia. Sono stati tutti molto spiritosi e giocosi. Ho una particolare predilezione per l'intervista a Fiorella Mannoia.